Sulle colline della California un minatore era coricato nella sua capanna. Una cristiana li lesse Giovanni 3 verso 16. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo onigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Apri gli occhi e domandò quello che lei dice è scritto nella Bibbia? Sì rispose la signora e questo mi riguarda? Certamente rimase un attimo in silenzio poi riprese ancora ha detto altro e salivesse ancora Giovanni 1 verso 12. Ma tutti coloro che l'hanno ricevuto a Cristo ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. Aggiunse con dolcezza è lui che vi parla. L'uomo aprì gli occhi e disse a voce bassa lo accetto sono soddisfatto e morì. Un cristiano diceva mi piacerebbe sapere se Isaia 41 è stato scritto per me. Un cristiano diceva mi piacerebbe sapere se Isaia 41 è stato scritto anche per me. Non temere poiché io sono con te. Non smarrirti poiché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico anzi tu hai aiutato anzi sostenuto con la destra della mia giustizia. Riguarda me anche quello? Geremia 33 verso 3. Grida a me e Dio ti risponderò e ti dichiarerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. E a me che parla? Giovanni 17 verso 7. Se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi voi domanderete ciò che vorrete e vi sarà fatto. Ciò è scritto proprio per me? Ciò significa che posso chiedere e mi sarà dato? Sì, tutto ciò è proprio per voi, come se voi foste la sola persona in tutto il mondo e che tutto fosse stato scritto in particolare per voi. Fino ad ora non avete domandato nulla nel mio nome, domandate e ricevete affinché la vostra letizia sia completa. Giovanni 16 verso 24. Questo vi appartiene, non ve' alcun dubbio, è come un assegno riempito per voi da un uomo d'affari. Questo assegno è vostro, lo riscotete alla banca e tutte le promesse contenute in questo meraviglioso libro che è la Bibbia sono vostre, come questo assegno. Quando siete nel bisogno confessate decisamente, orli Dio mio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze con gloria in Cristo Gesù. Filippesi 4 verso 19. Quando siete malato affermate con forza per le sue levidure sono guarito. Prima Pietro 2 verso 24. La fede nella parola di Dio è fede in Dio. Se volete accrescere la vostra fede in Dio nutritevi della sua parola. L'incredulità verso la parola è incredulità verso Dio stesso. Se credete la parola di Dio confessate con gioia ciò che Egli dice. Andate incontro a Satana con sta scritto e tutte queste malattie con i loro sintomi e dolori dovranno andarsene. Dite ciò che Dio dice. Satana non potrà mai sopportare ciò. È un nemico vinto e lo sa.